signori buongiorno e bentornati nella quarta stagione del canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale quarta stagione io faccio ancora fatica a credere di essere durato così tanto come già anticipato a luglio dedichieremo quest'anno a parlare di world building però oramai è tradizione che il primo video dell'anno venga dedicato ad argomenti di carattere generale e dato che ho visto che durante l'estate siete anche aumentati di numero vediamo subito di perdere iscritti andando a parlare di uno degli argomenti più spinosi dell'arte del masteraggio il titolo lo avete letto quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a parlare questa settimana di come per il master la tecnica sia molto più importante della fantasia uno dei luoghi comuni più diffusi che si ha sul gioco di ruolo soprattutto sul gioco di ruolo tradizionale è quello che il master debba essere una persona dotata di una incredibile fantasia di una grande immaginazione ora di per sé questo non è che sia assolutamente falso anzi un master deve comunque avere delle buone capacità di immaginazione sia per creare le storie che poi devono essere portate al tavolo sia soprattutto per poter integrare i contributi di tutti i giocatori e trasformare il tutto in una storia comune diciamo che molto spesso è necessaria una buona dose di capacità di pensiero laterale per poter prendere tutto quello che dicono i giocatori e trasformarlo in una storia comune e coerente senza scontentare nessuno non sempre ci si riesce ma l'obiettivo sarebbe quello il fatto però è che ci si concentra molto spesso solo su questo aspetto del master cioè la grande fantasia a discapito di tutte le altre competenze tecniche e specifiche che il master deve avere e che nella pratica dei fatti in realtà sono molto più importanti dell'avere una buona immaginazione nei miei video io ho ripetuto molto spesso che il gioco di ruolo è una forma d'arte e tutta l'arte in generale ha sicuramente bisogno di creatività e talento per prosperare e svilupparsi quello che però molti fanno finta di ignorare mettiamola così e che per quanto l'arte abbia bisogno di creatività e talento in larghissima parte in realtà è composta da competenze tecniche e pratiche che permettono di esprimere l'arte nella maniera in cui è concepita a un musicista non basta avere orecchio musicale deve essere in grado di suonare il suo strumento per poter mettere arte in quello che fa allo stesso modo un pittore deve conoscere le tecniche di pittura e avere i pennelli per poter effettivamente produrre un quadro e che il caso più attinente alla nostra competenza artistica uno scrittore o uno sceneggiatore devono conoscere le basi della teoria narrativa prima di poter creare un romanzo una sceneggiatura comunque un'opera scritta qui sul canale nel corso degli anni passati abbiamo visto molte di questi aspetti tecnici dalla struttura in tre atte ai principi e lo show don't tell avete centinaia di ore di video ad andarvi a recuperare se questo è il primo video che vedete comunque la cosa importante è proprio questa senza questo genere di competenze le buonissime idee che avete avuto rimangono semplicemente quello idee che non possono essere concretizzate in una quest vera e propria non vorrei sembrare scoraggiante anzi in realtà questa è una cosa positiva probabilmente se voi giocate di ruolo lo fate perché avete già un interesse verso la narrazione e l'interpretazione e molto poi in mente avete anche qualche tipo di dote naturale che vi rende il tutto più facile il fatto però è che una dote naturale è qualcosa con cui si nasce le competenze tecniche sono qualcosa che basta studiare le competenze tecniche sono alla portata di chiunque se voi siete interessati al diventare un master o anche solo avvicinarvi al mondo dei giochi di ruolo ma non volete farlo perché avete paura di non essere una persona fantasiosa non vi considerate una persona che abbia un chissà quale estro artistico questo in realtà è un falso problema tutti gli aspetti tecnici dell'arte del master possono semplicemente essere imparati e studiati io su questo canale faccio principalmente video che riguardano quali siano gli aspetti tecnici e le abilità pratiche che il master deve avere per condurre il suo ruolo ma ci sono altri canali ci sono libri ci sono guide e ovviamente ci sono altri master che magari conoscete personalmente con cui potete parlare e scambiarvi informazioni non dimenticate l'aspetto fondamentale della funzione del master cioè quello di portare al tavolo una storia che possa essere fatta giocare ai giocatori con una preparazione tecnica una quest al tavolo la portate e i giocatori riuscite a farli felici e a gestirli magari non sarà la miglior storia del mondo magari non sarà quella quest che verrà raccontata per anni a venire però comunque qualcosa al tavolo l'avete portato e i vostri giocatori adesso stanno giocando se avete un'ottima idea ma non sapete come fare a portarla al tavolo non avete assolutamente niente perché una quest senza il gioco in mezzo non è una quest è semplicemente una cosa interessante che vi è venuta in mente una volta la cosa più importante di nuovo non è avere buone idee la cosa più importante è avere i mezzi che vi permettano di condividere al tavolo queste idee con gli altri giocatori e quelle sono cose che basta studiare in quanto master di un gioco di ruolo voi avete anche un vantaggio che uno scrittore o uno sceneggiatore non hanno il peso della narrazione e il peso dell'inventività non ricadono tutti sulle vostre spalle voi non siete un attore che si esibisce davanti a un pubblico inerte voi state conducendo un gioco insieme ad altre persone che devono partecipare alla narrazione attivamente tanto quanto voi i giocatori non sono lì per ascoltare la storia che voi gli state raccontando ma anzi sono tenuti a partecipare a quella storia fornendo le loro idee le loro interpretazioni per questo non è indispensabile che voi portiate al tavolo chissà quale trama sconvolgente o ambientazione memorabile fin tanto che tutto il materiale che avete preparato è preparato in una maniera coeretta in modo da presentare un'esperienza coerente ai giocatori che stanno giocando insieme a voi sarà poi la loro interpretazione di ruolo a rendere tutto il racconto interessante l'aspetto fondamentale del gioco di ruolo che lo distingua dalle altre forme di altre narrative è proprio questo i protagonisti e gli spettatori coincidono i giocatori interagiscono direttamente con la storia che sta venendo raccontata anche una storia che in un altro ambito potrebbe essere banale il classico caso del gli eroi devono salvare la principessa rapita dal drago sarebbe un film molto poco interessante ma diventa molto più interessante quando sono i giocatori a doverlo fare in prima persona e le scelte che loro decideranno di fare saranno quello che rende la storia meritevole di essere raccontata da parte vostra non serve che voi creiate nuove scelte per i giocatori se il materiale è presentato in maniera competente allora quel materiale farà in modo che i giocatori autonomamente facciano tutte le scelte che vogliono e che tutte queste scelte siano potenzialmente interessanti per la storia dato che quest'anno andremo a parlare di world building e quindi probabilmente ci concentreremo molto sulla parte immaginativa e creativa ho voluto cominciare con questo video proprio per mettere come si dice i puntini sulle i dopo anni di video sul canale sugli aspetti tecnici dell'arte del master credo che oramai i punti fondamentali li abbiamo toccati tutti e quindi adesso si può passare a qualcosa diciamo di più esoterico ma non vorrei che chi arrivasse nuovo sul canale o chi non avesse seguito comunque si facesse l'idea errata che l'esoterico sia la parte più importante no adesso possiamo trattare questo perché nei quattro anni passati abbiamo parlato delle basi tecniche io personalmente spero che ci sia qualcuno di voi che state guardando il video che a sentire questo si senta rincuorato perché il fatto che magari lui non sia così naturalmente portato non vuol dire che non possa diventare bravo quanto gli altri gli servirà semplicemente studiare però io sono anche sicuro che lì da qualche parte c'è qualcuno anche più di qualcuno che in questo momento sta rosicando come una bestia perché gli ho detto no avere un talento naturale non basta diciamo comunque che per questo video è tutto iniziamo alla grande la nuova stagione adesso però voglio sapere da voi quali sono gli aspetti che ritenete più importanti e soprattutto quali sono le tecniche sia di quelle che abbiamo parlato qui sul canale ma anche se ne avete altre robe che non abbiamo ancora parlato comunque quali sono le tecniche che ritenete più importanti per il master e per quale motivo come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video